Il Tucano Toco Il Tucano Toco è il membro più grande della famiglia dei tucani ed è l'uccello con il becco più grande in rapporto al resto del corpo. Questo enorme becco copre un ventesimo della sua massa corporea, inoltre è un terzo della lunghezza totale del Tucano. Anche se sembra pesantissimo, in realtà dentro ha tanti sacchetti di aria che lo rendono incredibilmente leggero. Il Tucano Toco pesa tra i 590 e i 760 grammi e misura 60 centimetri di lunghezza. Questo uccello ha un dimorfismo sessuale marcato, infatti i maschi sono più grandi delle femmine. Il Tucano Toco vive in America del Sud, mangiando frutta si sposta a seconda della stagionalità, quindi lo si può trovare sia in foreste tropicali, sia in praterie simili a savane. Questo Tucano è un animale socievole, che vive in gruppi di 6 individui. Questo uccello produce una vasta gamma di suoni, però può comunicare anche facendo schioccare il becco. Questo Tucano è fruggivoro, mangiando prevalentemente frutta, ma occasionalmente può mangiare insetti o uova di altri uccelli. Grazie al suo grande becco, può nutrirsi facilmente, infatti gli consente di afferrare e strappare i frutti dai rami. Anche se apparentemente il grande becco coloratissimo sembra avere una funzione anche per la scelta del partner, non ci sono studi che lo confermano. Il becco serve invece per raccogliere i frutti che verranno poi utilizzati per il rito di corteggiamento. Il maschio o la femmina passano di becco in becco il frutto al partner. La femmina depone da 2 a 4 uova, in un nido fatto all'interno della cavità di un albero. Entrambi i genitori si occupano della cova delle uova. Il tucano toco è piuttosto longevo, arrivando a 20 anni di vita. Chiaramente molti tucani vengono uccisi dai loro predatori naturali, come giaguari, serpenti, coati o le aquile arpie. Lo IUCN lo classifica come minor preoccupazione, questo perché è molto diffuso nel suo habitat, però il commercio illegale potrebbe peggiorare le cose. Grazie. Grazie. Grazie.